Assolutamente sì, appassionato di eccellenze italiane, quindi ogni anno mi piace venire ad assaggiare i grandi nomi, come in questo caso questa azienda che fa una marrone di gran qualità e anche altre eccellenze italiane che sono molto meno famose, ma soprattutto meno pubblicizzate, ma che fanno dei grandi prodotti. Quindi perché non provare vino e qualità? Bisogna provare ad assaggiare, siamo i più forti del mondo sotto questo aspetto. Se fossimo in grado di valorizzare al meglio questo segmento sarebbe un grande aiuto all'economia del nostro paese. Devo dirti che già la volontà di fare un prodotto enologico di qualità premia tutti, premia coloro che magari fanno un prodotto a basso costo, sia coloro che fanno prodotti più alti di gamma, perché per fare un prodotto alto di gamma c'è grande lavoro in vigna, c'è grande lavoro nell'imbottigliamento, nella lavorazione, quindi oggi come oggi non mi sento di dover premiare nessuno col tapiro, anzi lasciamola ad altri, in Italia ce ne sono tanti di cialtroni che meritano il tapiro. In Italia è una manifestazione straordinaria, spero di poterci partecipare ogni anno perché mi piace bere poco, ma bere bene. Quindi premiamo tutte le regioni che hanno avuto il caraggio di portare qua i loro prodotti e di farli conoscere in Italia e all'estero. Valerio Staffelli, Stisciano Notizia, Verona. A voi la Lidia.